Seduta del 19 giugno I dati, i rischi e le conseguenze del gioco d'azzardo sono stati il tema dell'incontro del 19 giugno con i rappresentanti della Società di Formazione e Comunicazione Scientifica Taxi 1729, che da diversi anni è impegnata a portare una corretta informazione su un fenomeno sempre più in crescita. Sullo stesso tema, il 20 giugno, l'Osservatorio regionale sull'usura ha presentato i risultati dell'indagine svolta dall'Associazione Libera sulla diffusione del gioco d'azzardo legale e illegale in Piemonte. Ciac Piemonte È stata presentata a Palazzo Lascaris la rassegna cinematografica Ciac Piemonte, realizzata dal Consiglio regionale con Ajace. A giugno vengono proiettati tre film, alle ore 21 nel cortile di Palazzo Lascaris, il 20 dopo Mezzanotte di Davide Ferrario, il 22 Santa Maradona di Marco Ponti, il 22 giugno il giorno in più di Massimo Vernier. Fine giovedì 28 è la volta di Terre Magellaniche, film realizzato nel 1933 dal missionario salesiano Alberto Maria De Agostini. Confine e innovazione È partito dal Piemonte il lancio della nuova piattaforma di notizie regionali, nazionali e internazionali dell'Ansa, disponibile gratuitamente per tablet. Al convegno di presentazione Confine e innovazione in Piemonte per guardare al futuro, il 20 giugno, presso la Sala Conferenze del Museo regionale di Scienze Naturali di Torino, sono intervenuti anche il direttore dell'Ansa Luigi Contu e i presidenti della Giunta del Consiglio regionale Roberto Cota e Valerio Cattaneo. San Giovanni, il pane della carità L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha ricevuto a Palazzo Lascaris il 21 giugno da Giandui e Andrea Flamini il pane della carità, donato alle autorità che hanno sede in città in occasione della festa di San Giovanni, patrono di Torino, il 24 giugno. Il tradizionale incontro è stato curato dalla Succession Piemonteisa. Il tradizionale incontro è stato curato dalla Scenze Naturali di Torino, il 24 giugno 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 di Torino, il